E' di un uomo il DNA rilevato sul corpo di Katia Dello Marino, la 41enne trovata morta la mattina del 12 luglio scorso sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Ad isolarlo è stata la genetista Isabella Spinetti che ha seguito l'autopsia insieme al professor Marco Di Paolo dell'equip di medicina legale di Pisa. Una conferma che arriva dopo che le analisi di laboratorio effettuate in seguito all'autopsia avevano già dato prime indicazioni in questo senso. Secondo gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Arezzo guidati dal capitano Matteo De Martis, potrebbe essere quello dell'uomo che l'ha uccisa nella notte tra l'11 e il 12 luglio, colpendola la testa e poi sfondandola il cranio. Le tracce biologiche prelevate nel corso dell'autopsia dalle quali è stato isolato il DNA sarebbero riconducibili al liquido seminale, un elemento che aggiungerebbe veridicità all'ipotesi di un rapporto sessuale consumato tra la donna ed il suo assassino. E' presto per dire se completo o meno pochi attimi prima dell'omicidio. Intanto le indagini coordinate dal PM Giulia Maggiore stanno vagliando l'agenda in cui la donna si era appuntata a nomi e telefoni delle persone che frequentava un centinaio ai residenti fra Sansepolcro, San Giustino Umbro e Selcilama nel Perugino. All'esame degli investigatori anche i tabulati telefonici della 41enne. A breve il DNA di ignoto 1, quello isolato sul corpo di Katia, potrebbe essere quindi paragonato proprio con quello di coloro che potrebbero aver avuto contatti con la 41enne quella tragica notte.